amici di stream hardware benvenuti vi parliamo oggi ancora una volta di una action cam in particolare di un prodotto che arriva dall'oriente appena commercializzato chiamato gtwan la gtwan e la action cam entry level digit app una nuova azienda che si propone sul mercato appunto con due prodotti il primo la gtwan e secondo la gt tu che è in realtà un prodotto di fascia un pochettino più alta prima di aprire la scatola andiamo subito a vedere le caratteristiche tecniche che sono elencate sul sul retro abbiamo una action cam con un doppio angolo di visuale più largo oppure più stretto 160 o 120 gradi un display lcd di 1,5 pollici la possibilità di registrare video in full hd a 30 fps oppure risoluzioni inferiori sempre 30 fps oppure possiamo ancora scendere ulteriormente con la risoluzione direi una discesa eccessiva in termini di risoluzione in modo però da salire con gli fps a 120 i video vengono registrati in mp4 c'è la possibilità di registrare in modalità video loop quindi ogni tot minuti verrà registrato un nuovo un nuovo video il sensore fotografico e da 12 megapixel poi si va a scalare verso il basso con le risoluzioni per quanto riguarda le foto c'è la modalità timelapse come vedete 2 5 10 30 o 60 secondi c'è poi la possibilità di utilizzare degli accessori che però non sono inclusi nella confezione in particolare un microfono esterno oppure l'uscita audio video diretta c'è anche ovviamente il collegamento mini usb la action cam ha poi un sensore che gli permette di ruotare l'orientazione dell'immagine o dello schermo c'è il wifi e c'è la possibilità di un controllo remoto ciò significa che possiamo utilizzare la cam sia tramite appunto il telefono in modo da controllarla in remoto sia tramite una specie di telecomando che assomiglia realtà molto ad un orologio che funziona appunto tramite radio frequenze ovviamente a distanza possiamo utilizzare una micro sd fino a 64 gigabyte si consiglia ovviamente di utilizzare micro sd di tipo classe 10 la batteria inclusa è da 900 mili ampere che può registrare all'incirca un'ora e mezza in full hd andiamo a vedere la confezione questa action cam commercializzata in due versioni la prima quella che abbiamo noi è caratterizzata dall'assenza di accessori in pratica c'è soltanto la cam vera e propria insieme al manualetto ovviamente tutto in inglese il manuale non è eccessivamente dettagliato però è più che sufficiente per capire come come funziona il prodotto questa è la cam che ha anche un utilissimo copre obiettivo lo mettiamo un attimo da parte e vediamo che cosa c'è per il resto nella confezione dovrebbe esserci se non erro un cavetto eccolo qua micro sd non c'è altro come vedete si è deciso di mantenere una confezione un bundle il più minimale possibile in modo da contenere il più possibile i costi c'è comunque la possibilità di acquistare una versione più completa con tanto di accessori che però costa una ventina di euro in più abbiamo qui la cam con il suo copre obiettivo che togliamo subito come vedete è estremamente simile a tutte le altre cam cinesi quindi per esempio le sg cam è ovviamente molto molto simile alle gopro le dimensioni sono decisamente compatte e bisogna dire che a livello costruttivo sembra davvero un ottimo prodotto qui in basso abbiamo il vano per la batteria poi sulla sinistra ci sono i vari connettori usb micro hdmi c'è il microfono e ci sono questi piccoli fori di aerazione poi c'è lo slot per la micro sd ci sono vari pulsanti fisici ovviamente e anche parecchi led di notifica uno qui sulla destra due frontalmente e uno sul retro fianco del display led che sono molto utili per capire appunto lo stato di funzionamento della cam anche a livello costruttivo la presenza di queste quattro viti sul frontale conferisce una sensazione di elevata qualità costruttiva e di buona solidità al prodotto l'accensione si realizza attraverso questo pulsante basta mantenerlo premuto per qualche secondo ecco qui abbiamo acceso la nostra cam questo è il tasto che serve per avviare la registrazione questo tastino qui è invece quello che viene utilizzato per spostarsi tra le varie modalità e tra le varie impostazioni per quanto riguarda il software la gtapp è una action cam costruita piuttosto bene infatti il firmware è caratterizzato da una grande possibilità di personalizzazione di quelli che sono tutti i vari settaggi andando a vedere velocemente come funzionano i tasti fisici utilizzando sempre il tasto di accensione ma premendolo in maniera più rapida ci si sposta tra le varie modalità quindi ripresa video fotografie poi c'è la galleria ovviamente non abbiamo scheda micro sd inserita quindi non abbiamo nessuna immagine nessun video poi qui abbiamo le impostazioni generali del sistema e infine torniamo alla ripresa video questo come vi ho detto è il pulsante per avviare la registrazione scattare le foto o modificare i settaggi il pulsante piccolino per le impostazioni viene utilizzato anche per attivare o meno wifi tenendolo premuto per qualche secondo infatti come vedete viene avviato wifi bisogna ovviamente inserire la password per collegare lo smartphone al alla cam mantenendolo premuto per qualche altro secondo il wifi viene disattivato vi ricordo inoltre che in questo momento gtapp non ha ancora rilasciato una propria applicazione sul play store o sull'app store per gli smartphone potete però utilizzare un app che si chiama final cam andando a vedere velocemente le impostazioni sia per la ripresa video che per il resto vedete che possiamo decidere la risoluzione possiamo decidere se attivare o meno la registrazione in modalità loop possiamo attivare o meno la registrazione dell'audio possiamo disabilitare la visualizzazione della data e dell'ora oppure attivare o meno il timelapse possiamo modificare la modalità di cattura ovvero quella che ci serve per realizzare per esempio un autoscatto c'è poi bilanciamento del bianco custom o predefinito possiamo modificare l'esposizione attivare o meno l'angolo di visuale più o meno meno elevato attivare il la rilevazione dei movimenti e infine possiamo attivare il gsensor ovvero sensore che permette di ruotare il display della cam in base a come questa viene disposta per quanto riguarda invece la modalità fotografica abbiamo alcune altre impostazioni come per esempio le dimensioni dell'immagine l'esposizione e la tipologia di filtro colore da utilizzare e anche in questo caso il bilanciamento del bianco nella galleria abbiamo poi le possibilità di eliminare determinate foto o filmati per le impostazioni generali invece ci spostiamo in modo da impostare data e ora il linguaggio del sistema c'è anche l'italiano anche se la traduzione non è completa possiamo ruotare o meno le immagini attivare le notifiche sonore che ci vengono date dalla cam possiamo attivare o meno le informazioni sullo schermo quindi lo schermo ci dirà se stiamo riprendendo a 1080p o 720p se abbiamo attivato per esempio il timelapse o meno possiamo attivare lo spegnimento automatico dello schermo dopo un certo tempo e attivare anche lo spegnimento automatico della cam dopo un determinato periodo di inattività c'è poi la possibilità di modificare la frequenza su 50 60 hertz per lo schermo e la modalità del collegamento tv sia pal che ntsc abbiamo poi infine la possibilità di effettuare il pairing cioè l'accoppiamento con il radiocomando possiamo formattare la sd ripristinare le impostazioni predefinite e andare a vedere quella che è la versione del firmware in modo da verificare se ci sono aggiornamenti o meno insomma si tratta di una cam piuttosto simile a tutte quelle della concorrenza il prezzo sicuramente invitante perché siamo intorno ai 70 80 euro quindi si tratta di un prodotto decisamente entry level la qualità sembra decisamente buona per lo meno a livello costruttivo il firmware ben fatto facilmente comprensibile ed utilizzabile sicuramente è un prodotto di buonissima qualità dispiace più che altro per il fatto che la confezione non prevede grandi accessori mentre invece tutte le action cam economiche hanno già moltissimi accessori inclusi in pratica la versione premium della gtap gt1 è analoga alle versioni standard di tutte le altre action cam economiche che comprendono già tutti gli accessori se invece vi limiterete ad acquistare questa gt1 nel pacchetto standard non riceverete nient'altro che la cam un piccolo copri obiettivo e il cavetto usb micro usb non c'è caricatore non c'è case impermeabile nient'altro per il momento è tutto ovviamente in caso di domande e dubbi vi rimandiamo al nostro forum oppure i commenti in fondo alla recensione